Il caso Enfield è il caso di poltergeist famosissimo accaduto alla famiglia Hodson negli anni settanta, caso ripreso e trattato nel film Conjuring 2. Il vero caso Enfield è uno dei più documentati e studiati nella storia del poltergeist, oltre ad essere uno dei più lunghi. Gli strani fenomeni proseguirono per ben tredici mesi e fecero riferimento soprattutto alla piccola Janet Hodson e molto meno alla sorella maggiore, Margaret. La vicenda inizia il 30 agosto del 1977 quando Janet dice alla madre che il suo letto sobbalza, ma la madre non dà importanza alla cosa. Da quel giorno in poi i fenomeni aumentano come colpi sui muri e passi nei corridoi tanto che anche la madre accetta l'evidenza del fenomeno. I colpi del poltergeist si fanno più forti e viene invitato un vicino di casa il quale sentendoli chiama la polizia. Fatta l'ispezione, una poliziotta affermerà di aver visto una sedia muoversi da sola e una vicina di casa di aver visto la piccola Janet fluttuare nell'aria dalla finestra. Si assiste a mattoncini Lego volare per la stanza e divani che galleggiano nell'aria ma il fenomeno più impressionante è senza dubbio la voce che esce dalla piccola Janet. Si tratta di una voce roca e gutturale che racconta. Mi chiamo Bill e sono diventato cieco, poi ho avuto una emorragia, mi sono addormentato e sono morto su una sedia in un angolo al piano di sotto. Dopo poche settimane si riscontra che quello che Bill disse era vero. Egli abitava nella casa prima della famiglia Hodson. Intervennero anche i coniugi Warren i quali, a differenza del film, si fermarono nella casa solo per un giorno. Fu l'intervento di un medium, dopo varie vicende, nel 1978 a riportare il tutto alla normalità, dopo 13 lunghissimi mesi.